Musica Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di tutti Eccoci qui, sono Giovi a Cadispo, bentornati Oggi siamo nel Rob and Roll to Glory numero 9 di Crono Siamo in vista di titolo Abbiamo già ottenuto la promozione E quindi qua sta facendo un po' di aggiustamenti Scusate Vorrei ringraziare Alessandro, faccio solo il nome Perché ha citato il mio canale in un gruppo di Facebook Appena l'ho letto sono stato davvero contentissimo Quindi ringrazio Alessandro per avermi citato Ringrazio anche altri che mi citano e che purtroppo non riesco a vedere che mi hanno citato Li ringrazio, ringrazio tutti quelli che mi citano Ringrazio tutti quelli che condividono il mio canale, i miei video, che mettono mi piace E che si iscrivono Siamo arrivati a 400 iscritti Li abbiamo già superati Sono davvero contentissimo In quanto qua vi parlo Io parlo, voi vedete, vedete me, vedete la partita, vedete tutto Ringrazio voi che vi iscrivete Siamo arrivati a 400 iscritti Più di 400 iscritti Siamo arrivati in divisione 2 Io avevo tenuto la salvezza Quindi dovrei pubblicare a giorni un post sulla pagina Facebook Nel Pink Slipsy Lewandowski Quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando Non so se farò con questa squadra o con quell'altro Non lo so, devo decidere Pink Slipsy Lewandowski Che altro? Ah, volevo ricordarvi di passare dal canale che trovate qui sotto in descrizione Siamo arrivati a Zecremo, intanto vittoria e titolo di divisione 2 Si chiama Zecremo, il canale che sto sponsorizzando Mi ha detto che fa dei squad builder senza essere pagato Non vuole niente, vuole solo fare squadre Vuole mettersi in gioco facendo squadre Ve le fa gratis Gli dite qualche particolarità e lui ve la fa Infatti ha fatto anche a me le squadre Quindi lo ringrazio Intanto ho acquistato Goetz e Yavi Martinez Due ottimi acquisti Questa è la terza squadra Abbiamo un bel bambassi davanti Iovetic E infatti è Iovetic il punto che mi ha dato più fastidio Però arriva anche il pareggio di Robben Il grandissimo giocatore Finisce così quindi 1-1 Prima partita in divisione 1 Primo pareggio Diciamo che queste sono partite sempre allontallenanti Vittoria, sconfitto, pareggio E vabbè, così è la vita Qua arriva quest'altra squadra Cambiamo Diego Tocosta E' un'ibrida Tripla ibrida Per il primo quando arriva Pornobben Piano piano L'alentatore Sfrutta il fatto che E' bagnata la terra Il cemento Che cazzo dico Ler ma non è il cemento Dai qualche puttana Müller Bella quest'azione Bravo mi Young Il tiro Sempre raso a terra Al 90esimo minuto E questa partita La vinco io Al 90esimo minuto Questa altra squadra La BBN Bagatissima Velocissimi Le attaccanti Young E' un cacca cazzo Di quelli miei visti Il primo gol Arriva con Walker Al settimo minuto Però poi arriva Anche il gol Di testa Di Manzukic David Witts Non fa niente Neanche salta di testa Infatti Manzukic Per far fare Non ci arriva Però Robben C'è lì E con il mancino Le spalle di Art Porta il Robben To glory Al 2 a 1 Qua intanto Non so chi era Se è procurato Un caso di rigore David Witts L'ha atterrato In area di rigore A chi A gozze No Chi cazzo è Mi sa Manzukic Atterrato Manzukic David Witts Robben andrà La battuta Di questo Cacciatore Robben contro Art Robben Centrale Verde Due barrette Mezzo Niente da fare La para Art De Bruyne Ancora Numero La difesa C'è Viene atterrato Però Non c'è rigore Però Young Lain Sack All'ottantesimo Poi ancora Young Tutti i numeri Numeri Da mia difesa 2 a 2 Viene saltata E La infila Novantesimo Qui Mi sta venendo Un nervoso Di quelli Mai visti Vabbè Ormai Il video Sta arrivando La conclusione Vi invito Dunque A lasciare un bel Pollicione In su Mi raccomando A questo video A descrivere Il canale Se siete già iscritti Mentre mi piace La pagina facebook Trovate il link Qui sotto In descrizione Andate ad iscrivervi al canale Che trovate qui sotto In descrizione Se vi piace Se siete già iscritti Qui a Giovis Vi saluto Grazie Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao Bella a tutti Al prossimo video Ciao 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 Ciao